Ciao belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. La storia di oggi potrebbe ricordare il primo video del canale, in quanto si tratta di una storia presumibilmente reale, che ha ispirato uno dei più famosi film horror di tutti i tempi. Siamo alla fine degli anni 70. Wes Craven, allora, era un regista alle prime armi. Aveva appena creato il suo primo film, diventato poi in seguito un cult del genere, l'ultima casa a sinistra. Si rese subito conto che era davvero portato a fare film che spaventassero le persone, e negli anni divenne uno dei più noti registi horror di sempre. Pochi anni dopo, nel 1977, usciva il suo terzo film. Aveva un budget limitato, ma fece un successo clamoroso. Il film era Le colline hanno gli occhi. All'epoca fece scalpore, e anche per gli standard odierni questo film rimane brutale. La pellicola comincia con Bob Carter e sua moglie Itel, che insieme ad altri cinque membri della famiglia decidono di prendere un camper per andare a San Diego. Durante il viaggio, però, si verifica un incidente, e il gruppo rimane bloccato sulla strada, nel bel mezzo del deserto. Due uomini decidono di andare a chiedere aiuto, mentre gli altri di aspettare in macchina. Quello che non sapevano, però, è che quel luogo, circa una decina di anni prima, era stato usato per fare dei test nucleari. Le radiazioni di quel posto avevano portato alla mutazione di un gruppo di persone, che cominciarono a mangiare soltanto carne umana. La cosa spaventosa, però, è che questo film è ispirato ad una storia a metà tra mito e in parte realtà, la storia di Alexander Sonny Bean. La sua storia ha inizio nel XV secolo, in East Lothian, una delle 32 aree amministrative della Scozia situata vicina ad Edimburgo. Non sappiamo precisamente gli avvenimenti accaduti durante la prima parte della sua vita, ma alcune fonti raccontano di come da giovane Sonny volesse seguire le orme del padre, che faceva lo scavatore di fosse e il potatore di siepi. Realizzò subito, però, di non essere affatto portato per quel tipo di lavoro. Si sentiva inadatto nel luogo dove viveva e decise così di lasciare tutto e partire. Durante il cammino conobbe una donna, Agnes Douglas. Fu amore a prima vista. Anche lei era scappata dal suo paese perché era accusata di stregoneria. Era stata ribattezzata da loro Black Agnes, visto che era appassionata di magia nera. Decidero di vivere di furti e rapine, ma presto si ritrovarono a dover scappare di nuovo, poiché erano ricercati ovunque dalla polizia. Decisero così di evadere completamente dalla società e trovarono una caverna lungo la costa, a Banan Head, nel Galloway. Questa divenne il loro nascondiglio ideale, perché la caverna era profonda a 183 metri e durante l'alta marea l'acqua chiudeva l'ingresso della caverna, bloccando così l'entrata a chiunque, mentre all'interno rimaneva un enorme spazio dove abitare. Secondo alcuni studiosi la caverna in questione sarebbe quella che oggi si chiama Banane Cave. Si possono ancora trovare numerose foto e video di gente che va e la esplora. Ma tornando a noi, questo gli permise di vivere là dentro per ben 25 anni senza che nessuno venisse a saperlo. Visto che all'epoca le strade che collegavano un villaggio all'altro erano isolate. I due cominciarono a commettere crimini anche lì. All'inizio nessuno si accorse di nulla, perché le persone sparite erano poche, ma col passare degli anni queste sparizioni non potevano essere tutte casuali. Anche se ci furono dei ritrovamenti di arti lasciati dai due ogni tanto per far sembrare che fosse stato qualche animale selvatico a mangiare i malcapitati, furono organizzate delle spedizioni per verificare cosa accadesse in quell'area. Le spedizioni non portarono a nulla, la caverna era sommersa e nessuno la trovò. La famiglia passava tutta la sua giornata nella caverna per poi uscire di notte a cercare delle vittime. La cosa inquietante è che per loro era difficile andare in città senza essere scoperti, poiché erano ricercati e così cominciarono a cibarsi dei corpi delle vittime, così da non dover più recarsi in città per le provviste e per sbarazzarsi facilmente delle prove. I due, trovata quindi la stabilità, decisero di mettere su famiglia e diedero alla luce otto figli maschi e sei figlie femmine. Insegnarono loro a sopravvivere esattamente come loro, ovvero con furti, omicidi e cannibalismo, e vivendo isolati da tutto e tutti. Una volta cresciuti, i figli a loro volta si accoppiavano tra di loro partorendo in relazioni incestuose dei bambini deformi, arrivando addirittura ad avere 18 nipoti maschi e 14 nipoti femmine. Una famiglia davvero grande, composta da 48 individui. La situazione nella contea era diventata insostenibile. Erano sparite in totale circa un migliaio di persone. Le autorità quindi iniziarono ad incolpare e giustiziare gente innocente, ma le sparizioni continuavano. Spesso venivano incolpati i gestori delle locande, perché erano stati gli ultimi ad aver visto per l'ultima volta in vita molte delle vittime. Una notte però la famiglia assalì una coppia che stava tornando a casa da una fiera in un paese là vicino. La donna purtroppo cadde dal cavallo e venne uccisa brutalmente sotto gli stessi occhi del marito. A quel punto, acceccato dalla rabbia, opponeva una resistenza impressionante, difendendosi con la sua spada da tutti loro. Prima che potessero uccidere anche lui però, sopraggiunse un gruppo di viandanti che misero in fuga la famiglia Bin. Ora che la loro esistenza era stata finalmente scoperta, vennero avvisati i magistrati di Glasgow, che andarono direttamente da re Giacomo I. Venuto a conoscenza delle sparizioni, rimase scioccato, decise di dar loro la caccia e mise subito in piedi un esercito composto da 400 dei suoi migliori uomini e anche numerosi cani segugio. Sapendo della decisione presa dal re, si aggiunsero anche molti abitanti locali volontariamente, dando così il via alla più grande caccia all'uomo della Scozia. Cercarono ovunque in quelle zone, ma non trovarono nulla. La ricerca sarebbe stata impossibile se non fosse stato per i cani, che furono in grado di sentire l'odore della carne in decomposizione proveniente da quella caverna. I soldati entrarono con le spade sguainate, non sapendo cosa aspettarsi. Quello che videro fu uno spettacolo terribile, ben oltre qualsiasi loro aspettativa. I muri erano pieni di schizzi di sangue, lungo le pareti ossa di braccia e gambe lasciate a terra. Continuarono così ad esplorare la caverna, che era immensa, e in una zona della caverna scoprirono una pila di gioielli enorme e a fianco un'altra pila, ma questa volta di centinaia di resti umani, di qualsiasi tipo. Continuarono la loro ricerca e alla fine della caverna trovarono nascosta l'intera famiglia. Senza opporre nessun tipo di resistenza, i bin furono messi in catene, si lasciarono arrestare e li portarono via. Vennero condotti a Edimburgo. Il loro caso era talmente conosciuto che non gli venne nemmeno fatto un vero e proprio processo. L'intera famiglia fu così dichiarata colpevole. Vennero tutti condannati a morte e la loro punizione doveva essere esemplare. I 27 uomini vennero torturati pubblicamente senza pietà. Gli vennero tagliati gli arti e i genitali, per poi lasciarli morire dissanguati di fronte ai parenti delle vittime scomparse. Le 21 donne invece furono obbligate a guardare le esecuzioni dei loro familiari e dopo aver assistito fino alla morte, vennero bruciate a rogo pubblicamente. Le autorità dissero che nessuno di loro sembrava pentito di quello che aveva fatto e che per loro sembrava tutto normale. Infine la leggenda dice che anni dopo fu trovato un diario nella grotta, che probabilmente era appartenuto proprio a Sony. All'interno c'era una sorta di registro nel quale c'era scritto che la famiglia era composta da 50 membri, mentre quelli che erano stati trovati e giustiziati erano solo 48. Le ultime parole pronunciate da Sony prima di morire furono, non è finita e non lo sarà mai. Molte persone pensano che la storia di Sony sia completamente vera e ne sono totalmente sicure, anche se non ci sono molte prove della loro esistenza o del processo e dell'esecuzione. Altri pensano che sia una leggenda che è stata tramandata di generazione in generazione. Una domanda però rimane. Perché inventarsi una storia del genere? Durante l'epoca di Sony vi era l'insurenza dei Giacobini. Queste ultime furono una serie di ribellioni e guerre tra Gran Bretagna e Irlanda, avvenute proprio in quei secoli, con l'obiettivo di riportare al trono quello che gli scozzesi pensavano fosse il loro legittimo re, conosciuto come Giacomo II d'Inghilterra. Durante questo periodo la stampa inglese ritraeva regolarmente le persone scozzesi in modo negativo, spesso facendoli sembrare di natura malvagia. Gli esperti quindi pensano che questa storia possa essere stata inventata per fare propaganda politica con l'obiettivo di far apparire gli scozzesi come un popolo di incivili e inferiori. Un'altra teoria invece, anche se si tratta di pura speculazione, dice che Daniel Defoe, l'autore del libro Robinson Crusoe, avesse scritto lui stesso questa storia. Che sia vero o no, queste teorie hanno attirato l'attenzione del nostro regista, Wes Craven, che è venuto a conoscenza di tutta questa storia grazie ad un articolo proprio riguardante la veridicità di quest'ultima, e decise così di basarci l'intero film, le colline hanno gli occhi. È davvero allucinante, perché si sta parlando di oltre mille vittime accertate. Sarebbe un numero mai raggiunto da nessun altro serial killer al mondo. In questo caso però devo dire che secondo me potrebbe essere un mix tra realtà e fantasia. Alcuni elementi e dettagli della vita di Sony sono troppo precisi per essere stati inventati così da qualcuno nel XV secolo. Ma questa è solo la mia opinione, vero o meno, è una storia da brividi. Bene ragazzi, io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!